la speranza non muore, la speranza non viene meno e allora andiamo avanti come madre Teresa io sono una goccia, tutti siamo una goccia San Francesco una pietra dopo l'altra, in alto li vedremo e anche il beato Paterpino Puglisi dice e se ognuno fa qualcosa quanto si può fare, veramente tanto, tanto, tanto Grazie